Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano sono le 9.41 in questo istante in diretta sempre qui dagli studi di Milano All News oggi ricominciamo un po' il nostro giro attraverso i municipi di Milano e oggi giochiamo in casa, lo sapete noi siamo in zona San Siro, municipio 7 oggi siamo ben contenti di avere qui il presidente del nostro municipio benvenuto a Marco Bestetti, presidente appunto del municipio 7 grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito benvenuto presidente, grazie di essere qui siamo contenti appunto come dicevo noi giochiamo in casa quindi oggi siamo contenti di avere il nostro sono venuti in ciabatte praticamente con questa pioggia è stata una bella impresa, complimenti partiamo appunto però per chi invece ci segue dalle altre zone inquadriamo il municipio 7 sì, è il quadrante ovest della città uno spicchio che si estende dalle parti più centrali di Corso Vercelli, Pagano, Via Vincenzo Monti fino alla periferia ovest della città quindi Muggiano, Olmi, Baggio, Quinto Romano, Quarto Cagnino è un territorio molto ampio e vasto siamo circa 180-185 mila cittadini quindi praticamente siamo la quarta città di Lombardia detta così sembra incredibile ma in termini di popolazione come se fossimo la quarta città di Lombardia siamo alla zona più verde di Milano insomma abbiamo lo stadio, abbiamo problemi e orgogli è la zona più verde di Milano? la più verde di Milano in termini di estensione di aree verdi abbiamo i tre grandi parchi che sono il parco delle cave parco di treno e bosco in città più le aree verdi di parchi, di quartiere sommando le superfici di queste aree verdi siamo alla più verde di Milano e se fossimo una città, se fossimo un comune a parte saremmo la quarta città di Lombardia c'è Milano, c'è Brescia, c'è il municipio 8 e poi il municipio 7 l'altra settimana avevamo qui il municipio 6 anche loro sarebbe forse la quinta sono 160 mila abitanti diciamo appunto che ci sono sindaci dell'Inter che insomma devono governare paesi molto più piccoli però magari 10 mila abitanti sono dei nostri per non parlare appunto quelli sotto i 5 mila alcuni sindaci dell'Interland governano dei nostri condomini praticamente sono degli amministratori condomini senza nulla togliere no, c'è massimo rispetto a questi sindaci però appunto come si fa a governare 185 mila cittadini oltretutto di un'eterogenità pazzesca perché andiamo appunto da via Vincenzo Monte quindi il grande centro immaginiamo anche chi possa abitare in quelle zone a zone insomma dove i problemi sicuramente non sono quelli di via Vincenzo Monte diciamo che è doppiamente complicato da un lato in termini appunto di estensione e di eterogenità della popolazione perché evidentemente i problemi che i cittadini ci sottopongono dalle zone via Pagano non sono gli stessi che ci sottopongono i cittadini di Mugiano questo è naturale quindi anche saper tarare la propria azione politica a seconda proprio del territorio del quartiere in cui la caliamo e poi è complicato perché c'è a differenza dei comuni veri e propri che hanno un sindaco e una giunta autonomi c'è un'interlocuzione con l'amministrazione comunale quindi con il sindaco sale e con i suoi assessori che ci porta ogni giorno a doverci confrontare con delle aspettative nostre che magari a volte purtroppo spesso non vengono in qualche maniera sostenute o delle visioni differenti noi vorremmo fare qualcosa e poi ci rendiamo conto che l'amministrazione centrale magari non condivide il nostro approccio e quindi ferma dei procedimenti di modifica o di riforma o di intervento che vogliamo fare sul territorio quindi è doppiamente difficile perché da un lato abbiamo le legittime e giuste aspettative dei cittadini che hanno eletto per la prima volta in maniera diretta un presidente con una giunta si aspettano che noi facciamo delle cose concrete sul territorio e poi molte volte questo è più difficile da realizzare perché il comune di Milano magari non ci sta dietro quindi devo dire che è una cosa complessa sia in termini proprio di gestione operativa che di rapporti istituzionali rimaniamo appunto a questo tema del politico operativo è il primo mandato da presidente con i nuovi municipi ma è stato consigliere nelle vecchie zone una riforma che doveva arrivare che poi è stata cambiata poi insomma alla fine con la del Rio si è arrivata questa riforma dei municipi anche a Milano con l'istituzione della città metropolitana come sta andando? cioè com'è? allora avete finalmente i poteri? questa giunta che vi hanno dato lei ha quattro assessori al suo fianco tre assessori più lei in verità fino ad oggi ne ho due perché abbiamo voluto fare un po' di spending review municipale nel senso che mi sono tenuto io delle deleghe abbiamo provato a risparmiare far risparmiare ai cittadini lo stipendio di un assessore la segreteria eccetera per dare un segnale finché io riuscirò insomma a gestire le deleghe che mi sono tenuto per me andremo avanti così quando riterrò opportuno affidare le deleghe al terzo assessore lo farò però per adesso diciamo lavoriamo sono sei mesi che lavoriamo con un taglio di un terzo diciamo del costo politico della struttura il cambio com'è stato? ma devo dire che è una bella responsabilità perché è anche difficile perché non abbiamo uno storico cioè la storia dei municipi la stiamo facendo noi siamo i primi rappresentanti di queste istituzioni quindi dobbiamo costruire noi scrivere noi la pagina delle municipalità abbiamo sicuramente delle competenze delle prerogative dei poteri in più rispetto ai consigli di zona abbiamo anche tante competenze che da regolamento ci sono state affidate ma che poi praticamente non riusciamo a gestire non possiamo ancora gestire nella pratica perché non ci hanno ancora trasferito il personale le risorse, le strutture quindi è tutto da costruire e abbiamo tutta una serie anche di competenze che ospichiamo che in questi cinque anni vengano effettivamente decentrate sui municipi perché alla fine del mandato ci possa essere un'istituzione municipale che possa intervenire efficacemente e autonomamente sui problemi almeno più sentiti che i cittadini ci spongono i suoi municipi sono di quelli che sono a guida opposta rispetto alla guida della città com'è questo rapporto con una giunta comunale che appunto è di colore diverso e ha magari visioni diverse? ma devo dire che dal punto di vista della facciata e del rapporto istituzionale non mi lamento nel senso che c'è un'interlocuzione ci sono momenti di confronto il problema è che al di là delle riunioni di facciata poi ci sono evidentemente delle decisioni che dovrebbero essere prese con maggior concerto e condivisione non avviene faccio un esempio proprio di questi giorni il trasporto pubblico locale noi abbiamo avuto nel municipio 7 dalla giunta Pisapia dei profondi tagli e come dire stravolgimenti dei percorsi dei mezzi di superficie importanti che hanno interessato intere i quartieri e non penso di dire una cosa lontana dalla realtà se dico che forse il centro-destra del municipio 7 ha vinto proprio per il trasporto pubblico per i danni che sono stati fatti da Maranne e dalla giunta Pisapia in un contesto del genere ho chiesto diverse volte da quando mi sono insediato dalla scorsa estate all'assessore Granelli di fare degli incontri operativi sul municipio insieme ai tecnici della TM per provare a risolvere questi problemi sono 4 mesi che l'assessore scivola come un'anguilla quando Benci ha promesso che avremmo fatto delle riunioni per discutere di questo tema leggiamo dai giornali che le modifiche al trasporto pubblico locale le ha già decise lui le ha già annunciate alla stampa senza coinvolgere minimamente i municipi e i presidenti ha promesso che farà nelle prossime settimane le riunioni si chiama della conferenza dei presidenti questo organismo in cui si trovano i presidenti e l'assessore ma non ha senso discutere di questioni che sono già state decise cioè l'ascolto e la partecipazione per come la vedo io deve essere prima di prendere la decisione nello specifico del municipio 7 cosa avete richiesto appunto a Maran sappiamo che dall'avvento della fermata di San Siro Stadio lì si è a catena mosso tutta una rivisitazione diciamo dei mezzi superfici che anche in zone che non c'entrano nulla ha portato veramente a un effetto domino in tutta la zona 7 molto probabilmente in tutta la zona periferica in quasi tutta avete fatto delle richieste specifiche e avete avuto delle risposte su qualche tema specifico oppure le richieste le abbiamo fatte le risposte non le abbiamo ricevute le richieste specifiche riguardano dei quartieri dei quadranti delle linee si parlava dell'apertura dell'M5 lo stravolgimento delle linee di superficie dell'ATM ha riguardato anche la linea 63 per esempio che collegava al quartiere Olmi con De Angeli cioè aree e quartieri che con la M5 San Siro non c'entrano assolutamente niente cioè neanche col binocolo la via della 63 una fermata della M5 quella è stata pesantemente tagliata non capiamo il perché o meglio lo capiamo per ragioni di tipo squisitamente economico però un servizio pubblico che vuole definirsi davvero efficiente non può subire dei tagli indiscriminati così con l'accetta tirando una linea su una carta geografica bisogna capire quella linea chi la utilizza per quali servizi per raggiungere che cosa la 63 è una linea che collega al quartiere degli Olmi che è un quartiere molto anziano con il resto della città gli anziani non riescono più ad andare al trivulso non riescono più ad andare un quartiere abbastanza isolato isolato quindi il trasporto pubblico soprattutto per gli anziani è l'unico modo che hanno per muoversi oggi c'è la 63 che passa da lì ma si ferma a Bisceglie facendo il capolinea quindi devono fare trasbordi o prendere una metropolitana che non possono prendere perché non ci sono le scale mobili quindi ci sono dei problemi oggettivi di trasporto pubblico quindi abbiamo chiesto il ripristino integrale della 63 come è sempre stato da 50 anni quindi non è una novità c'è un tema importante di collegamento quarto Cagnino Figino quindi la 72 la 64 anche su quelle c'è del lavoro da fare perché anche Figino che è un quartiere estremamente periferico e isolato sconta questi problemi di collegamento con la città quindi abbiamo diverse linee che vorremmo approfondire con l'assessore risposte non ne abbiamo avute abbiamo letto dei giornali alcune parziali modifiche che interessano anche queste linee vorremmo capirci un po' di più quindi auspico che Granelli ci chiami presto a un tavolo e che magari prenda delle decisioni la prossima volta dopo averci consultate non prima voi siano sette mesi che siete al governo di questo municipio che cosa siete proprio fieri di aver già fatto in questi sette mesi ma devo dire che sono molto fiero in generale della mia maggioranza del modo con cui stiamo lavorando c'è una compattezza davvero importante innanzitutto noi ci presentiamo con uno schieramento di centrodestra unito non ci sono divisioni e questo facilita molto il lavoro in consiglio in aula cosa abbiamo già realizzato io penso davvero tanto in termini di sicurezza faccio degli esempi diciamo spot sulla sicurezza erano almeno dieci anni che nel parco di trenno tutte le stati nei weekend si svolgevano dei reparti di sudamericani che duravano fino alle 3, 4, 5 del mattino impedendo ai cittadini di quarto canino di dormire e di riposare sembrava un problema irrisolvibile quando siamo arrivati ce ne siamo occupati subito con la polizia locale abbiamo stabilito dei presidi fissi di polizia locale che hanno stroncato questo fenomeno e hanno riportato il decoro e l'ordine all'interno del parco di trenno abbiamo fatto la stessa cosa al parco delle cave un presidio fisso estivo per garantire il decoro il controllo di un'area verde che durante l'estate viene ovviamente presa da salto davvero da tantissime persone avremo fatto solo nel periodo estivo almeno 20-25 sgomberi di insediamenti abusivi di nomadi che si collocano ormai sempre nei soliti posti che conosciamo perfettamente abbiamo in termini di politiche sociali questo Natale stanziato una quota importante di budget la più alta dei municipi 40.000 euro per delle tessere prepagate in collaborazione con S.Lunga da distribuire dei buoni spesa da distribuire a 800 famiglie indigenti del nostro territorio 600 anziani e 200 disabili individuati dai servizi sociali un'operazione davvero importante di welfare che si aggiunge a quelle che il comune già mette a disposizione ma che riteniamo importante implementare sul verde abbiamo fatto tantissimo abbiamo introdotto due nuovi mezzi ecologici dell'AMSA per la pulizia del parco delle cave abbiamo aperto e inaugurato due nuove aree giochi una nel parco Valsesia e una più in centro in Piazziernerio in zona via Washington abbiamo sostenuto le associazioni del nostro territorio le onlus nei progetti sociali che fanno stanziando oltre 65.000 euro in sei mesi abbiamo sostenuto le scuole i progetti scolastici rivolti alla socialità e al territorio con oltre 75.000 euro abbiamo dato contributi ai commercianti con sgravio di tasse di occupazione solo pubblico insomma abbiamo fatto davvero un lavoro enorme ma cosa si può fare? non si può fare faticosissimo non ci sono soldi non si può fare dico su questo scusi molti mi dicono ma non hai le competenze per fare questa cosa io devo essere sincero il regolamento dei municipi che stabilisce quali sono le mie competenze io forse l'ho letto una volta forse lo uso per non far ballare la mia scrivania in ufficio ma non per altro perché il ruolo che mi è stato penso affidato dei cittadini non sia quello semplicemente di fare perissequamente quello che regolamentino mi dice di fare io ho un ruolo anche di tipo politico e di rappresentanza territoriale quindi qualsiasi problema che viene sottoposto qualsiasi che interessa anche le case popolari che non sono competenze del municipio io ho il dovere di interessarmene io penso di aver dato anche risposte su alcuni temi che non sono di mia stretta competenza ma che ritengo importante e fondamentale affrontare per risolverli quindi fare il presidente di municipio devi interpretarlo il ruolo che hai perché se ti rimetti esclusivamente a quello che è previsto puoi fare poco devi interpretarlo e provare a fare tutto ciò che non è di tua competenza ma che serve ai tuoi cittadini ecco questo è tutto quello che avete fatto finora che cosa ancora invece non siete riusciti a fare ma che vuole sicuramente fare dentro la fine del vostro mandato abbiamo tanto dico il lavoro il trasporto pubblico non ci torno ma sicuramente quello vogliamo che venga a una specifica allora ne cito una noi abbiamo nel municipio 7 presumo anche negli altri municipi ma non credo in questi termini tante troppe aree dismesse abbandonate edifici che sono vuoti pubblici e privati che siano abbiamo istituito una commissione ad hoc speciale per la prima volta nella storia di questa istituzione che si chiama riqualificazione aree dismesse il nostro obiettivo la nostra ambizione è che questa lista che oggi è lunghissima di aree abbandonate in disuso non fruibili per i cittadini alla fine del nostro mandato sia sempre più corta e accorciata ridurla a zero penso sarà impossibile però dimezzarla sarebbe già un obiettivo davvero ambizioso ne cito una la piazza d'armi che è un'area ampissima ex demanio militare dove venivano fatte le esercitazioni che è un'area gigantesca che oggi è interdetta alla fruizione dei cittadini e che invece noi vogliamo recuperare nel quartiere Quarto Cagnino penso la scuola Manara che è una meraviglia dal punto di vista architettonico è stata negli anni abbandonata e poi destinata a scopi che non ne sono propri anche quella andrebbe restituita ai cittadini ne abbiamo davvero tantissime quello che vogliamo fare in questo mandato e che ancora non siamo riusciti a fare perché è un lavoro davvero lungo è quello della mappatura e della restituzione ai cittadini delle aree degradate o abbandonate ripeto pubbliche e private che vengono sul territorio ecco una di queste aree potrebbe diventare il totto l'ex ipodromo del totto che adesso appunto è stato spostato e quindi quest'area al momento è in disuso e insomma il rischio che diventi una delle ennesime aree dismesse poi in preda a chissà chi c'è c'è qualche progetto c'è un'idea qualcosa si vuole fare allora quella è un'area privata quindi il nostro ruolo è di moral suasion e di registi e poi gli scali ferroviari in piccolo per il nostro municipio è un'area però importante che sta accanto allo stadio di San Siro un'area che in verità è già abbandonata c'era appunto è stato detto l'ipodromo del trotto che è stato spostato nel municipio 8 alla Maura oggi è un'area enorme vuota accanto allo stadio io penso che potrebbe essere ripeto nel rispetto della libertà dell'operatore e del proprietario di fare quello che ai sensi di legge e di regolamento può fare in termini edificatori però io penso che fare di quell'area un polo di servizi sportivi possa essere utile per il quartiere io non penso lasciare una vocazione sportiva a questo quartiere io non penso che pur avendone diritto quell'area lì sia opportuno fare nuove costruzioni nuovi palazzi in una zona in una città che non penso abbia tutto questo bisogno di nuove abitazioni si parlava anche magari di centri commerciali servizi io penso che l'aspetto sportivo sia la vocazione naturale di quel luogo e ne abbia bisogno noi siamo una città che vuole competere con le grandi metropoli europee anche in termini di impiantistica sportiva ma purtroppo abbiamo un deficit enorme non riusciamo facciamo fatica a ospitarla a finale di Champions League abbiamo dovuto fare dei lavori in extremis su San Siro per cercare di ridargli un po' di restyling su tutto il resto noi non abbiamo la possibilità di intercettare i circuiti internazionali sportivi delle grandi gare grandi torne internazionali perché non abbiamo l'impiantistica quella secondo me potrebbe essere un'area sulla quale farci un pensierino sicuramente io non sono ancora andato a parlare né con la sessuale urbanistica né con la proprietà di questo aspetto però io penso che possa essere un'operazione sostenibile da fare di concerto con i cittadini con i comitati con la gente che abita lì intorno perché penso che comunque sia un'area da restituire alla gente perfetto presidente siamo arrivati alla fine della nostra gacchierata io sono stato veramente contento di averla qui ospite e spero di rivederla presto le cose che fate sono tante poi la contro avete tanto da lavorare ma non vi tirate indietro benvenga quindi la ringrazio tanto e la rinvito ancora qui a raccontare cosa succede nel municipio 7 va bene grazie mille buon lavoro e buona giornata grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e questa mattina dalle 7.30 fino ad oggi fino a mezz'ora fa con i telegiornali e poi in quest'ultima mezz'ora con Good Morning Milano vi ricordo oggi pomeriggio ore 17.30 i nostri telegiornali in diretta sempre aggiornati con largo spazio ai gruppi territoriali di Facebook grande spazio ai gruppi di cittadini presenti ai cittadini milanesi presenti su Facebook io personalmente poi vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano grazie mille arrivederci buon weekend ciao a tutti Grazie a tutti.